Anticipazioni Beautiful. Trama puntate dal 21 al 26 marzo 2022. Summer Newman fa visita a Bill. Lunedì, 21 marzo 2022. Liam chiede perdono ad Hope, per averla tradita con Steffi. Ribadisce di aver agito distinto, dopo aver visto il fantomatico bacio, tra Thomas e quello che era in realtà, il manichino della Logan. Ricorda alla moglie, tutti i difficili momenti, che hanno superato insieme. Hope, in lacrime, non riesce a capacitarsi, di quello che sta vivendo. Apprezza la sua onestà, lo ama, ma ci vorrà del tempo. Lo Spencer è agitato, e la Logan si accorge, che c'è dell'altro. Pertanto, lo supplica di parlare. Finn, intanto, lancia a Steffi uno sguardo gelido, mentre lei tenta di spiegare, che il suo errore con Liam, è stato solo frutto di un malinteso. La Forrester specifica che Liam, credeva che Hope, l'avesse tradito con Thomas e che, per questo motivo, entrambi i scossi, hanno cominciato a bere. Finn, sconvolto, scopre che lei e Liam, si sono abbandonati alla passione. Martedì, 22 marzo 2022. Finn, non mette in dubbio l'amore che Steffi, prova per lui. Ma il solo pensiero, di immaginarla tra le braccia di Liam, è un pugno nello stomaco. Voleva un futuro con lei, ma forse la persona, che vuole nella sua vita, è l'ex. Steffi sbotta e, piangendo, gli dice che non vuole perderlo, e che l'unica cosa che desidera, è il suo perdono. Nello studio fotografico della Forrester, Donna è felice per Paris, quando scopre che è stata assunta, alla Forrester Foundation. Con un velo di tristezza, la ragazza confessa che la sorella, invece, è contraria. Entra Zoe che, nervosa, intima alla consanguinea, di lasciare immediatamente Los Angeles. Paris ammette che è stato zende, a convincerla ad accettare il lavoro. Zoe, afferma di sentirsi mancata di rispetto e, quando poi apprende che Paris, ha baciato il Dominguez, e che lui ha ricambiato, chiede di essere lasciata sola. Mercoledì, 23 marzo 2022. Allo chalet, Hope è incredula ed esausta. Esorta il marito, ad essere sincero. Cos'altro deve sapere? Con la voce tremante, Liam la informa che la famiglia, sta per allargarsi. Hope, è scioccata quando poi lo Spencer precisa, che Steffi l'ho appena informato, della sua dolce attesa. La Logan è disperata, mentre il marito la implora, di dire qualcosa. La giovane, a denti stretti, gli chiede cosa si aspetta, che gli dica. Liam precisa che il piccolo, però, potrebbe anche essere di Finn. Intanto, alla casa sulla scogliera, Finn fatica a parlare. Poi afferma, di non essere certo che la perdonerà, anche se il perdono, è l'obiettivo finale. Steffi, tira un sospiro di sollievo, ma poi aggiunge che le novità, non sono finite. Finn, le dice di apprezzare la sua onestà, e sincerità. La Forrester, si sente sollevata, ma lo aggiorna che c'è ancora un'ultima cosa, che deve sapere. Giovedì, 24 marzo 2022. Steffi, comincia a balbettare qualcosa. Poi, tutto d'un fiato, rivela Finn di essere incinta, e che ha bisogno di un test di paternità, per stabilire di chi è il bambino. Aggiunge, poi, che farà tutto il possibile, per dimostrargli, quanto lo ama. Finn è sconvolto. Alla Forrester Creations, Paris non riesce a capire, come il bacio dato a Zende, nonché il suo nuovo posto di lavoro, possano aver complicato così tanto le cose, con Zoe. Quando le due si rivedono, il litigio è inevitabile. Paris accusa la consanguinea, di essere gelosa. Ama il Dominguez e non Carter, forse? E le chiede perché sta ancora con il Walton, se non lo vuole sposare. Forse, per la posizione di prestigio di lui, in azienda? Zoe, offesa, insiste affinché la sorella, rifiuti il lavoro, e lasci immediatamente, Los Angeles. Paris le tiene testa, con un secco, no. Ed aggiunge, di voler frequentare Zende. Venerdì, 25 marzo 2022. Liam, arriva a casa di Steffi, e l'avvisa di aver confessato il loro segreto, ad Hop. La Forrester ammette, di aver agito allo stesso modo. Poi dice al ragazzo, che eseguirà un test del DNA, per stabilire la paternità, del bambino. Lo Spencer, si imbatte in Finn. Lo scontro verbale, è inevitabile. Hop, è molto a disagio. E vorrebbe tanto, confessare alla madre cosa è successo, ma non trova le parole giuste. Thomas è al lavoro, e si sente più intraprendente che mai. Vinny, lo raggiunge per un saluto e, mentre prende il cellulare, una boccetta di pillole cade a terra. Thomas, non nota nulla. Il discorso si sposta, su Hop. Per il Forrester, quella ragazza merita un uomo, che si dedichi esclusivamente, a lei. La Logan entra, fingendo di non aver sentito nulla e, all'arrivo di Steffi, chiede di essere lasciata sola con lei. Poi, la accusa di essere ancora innamorata, di Liam. Sabato, 26 marzo 2022. Hop, chiede a Steffi, di essere onesta con se stessa. Voleva un secondo figlio, con Liam. Piangendo, la Forrester insiste che non era nelle sue intenzioni, rovinare lei, e Finn. Intanto, il dottore lancia un sonoro avvertimento al rivale. Non gli consentirà più, di entrare ed uscire, dalla vita di Steffi. Wyatt, porta Summer Newman, nell'ufficio di Bill, alla Spencer Publications. E suggerisce al padre, una partnership tra i lunga CV e Ion Fashion. Bill, entusiasta, ammette di aver sempre provato, grande rispetto, per il nonno di Summer, Victor Newman. Dopo la transazione, Summer parla a Wyatt di Sally Spectra, che definisce una ragazza talentuosa. Wyatt, non le nasconde che stavano quasi per convolare, a nozze. Flo, arriva all'improvviso, e mette in guardia la Newman, dalla pericolosità della rossa stilista. Liam, prova a ricucire con Hop, ma è inutile. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Sheila si tradisce, con Thomas e... La storyline della reunion tra Ridge e Taylor, subirà un contraccolpo che ha dell'incredibile. Sheila Carter, nel corso di un dialogo con Thomas Forrester, arriverà a tradirsi, ed a rivelare velatamente al ragazzo, di aver favorito, a suon di loschi intrighi, la crisi tra Brooke e Ridge, ed il conseguente bacio, tra la Logan e Deacon Sharp. Tutto questo, mentre Hop non si dirà per nulla disposta, a vedere sua madre lontana dalla sua anima gemella, mentre Brooke affermerà, di non volersi arrendere. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Tra Brooke e Ridge, c'è possibilità di recupero. In un nostro precedente video, vi abbiamo parlato dell'inaspettato, quanto coinvolgente bacio, tra due ex storici della SOP, ed ovvero Taylor e Ridge. E ciò, a seguito dall'ennesima delusione incassata, da quest'ultimo. Come ben sapete, desiderosa di vendetta, Sheila ha fatto in modo che, in maniera del tutto inconsapevole, Brooke bevesse dell'alcol, in compagnia di Deacon, risvegliando in lei sensazioni sopite, da tempo ormai. La delusione per essere rimasta da sola, la notte di Capodanno, per via di un viaggio di lavoro di Ridge ha portato, come già spoilerato, la Logan a cedere, ritrovandosi dunque non solo a bere, ma anche a ricapitolare con il padre di Hope, i momenti più intensi, della loro love story. Le cose, sono poi sfuggite di mano ad entrambi che, all'improvviso, si sono ritrovati a condividere un bacio molto appassionato, proprio mentre Ridge, stava facendo tutto il possibile, per rientrare a casa entro la mezzanotte. Deacon, poi, ha messo a letto la Logan, trascorrendo la notte al suo fianco e dormendo, dunque, proprio nello stesso letto, che la donna condivide con il marito. Brooke, sconvolta dall'accaduto, ha poi bandito Sharp dalla sua vita, proprio mentre Douglas ha raccontato a tutti, di aver visto nonna Brooke, baciare Babbo Natale. Deacon quella notte indossava, un berretto natalizio. La verità, dopo qualche giorno, è venuta tristemente a galla, portando Thomas e Steffi, ad unirsi per mettere definitivamente fuori dai giochi, la Logan. Ne è seguito uno scontro fisico, tra Ridge e Deacon, che ha portato Brooke a difendere il rivale, ed a confessare al marito, che non è stato il suo antagonista, a farla ubriacare, Ridge, sfinito dall'ennesimo tradimento, si è poi rifugiato tra le braccia, di Taylor. I due, dopo un bellissimo confronto, si sono scambiati un bacio, dandosi di fatto un'ultima chance. Ora nuovi spoiler, indicano che Hope, temendo un riavvicinamento, tra gli ex coniugi Forrester, inviterà Liam a Malibu. E che cosa succederà, il giovane Spencer, coglierà l'ex suocero intento a vivere un momento intimo, con la Ace. Quel che è certo è che Ridge, scoprirà che i suoi figli hanno sabotato il suo cellulare, per evitare sterili confronti, tra lui e Brooke, e non la prenderà affatto bene. Pertanto, lo stilista si recherà immediatamente dalla Logan, che purtroppo resterà, con l'amaro in bocca. Il Forrester, infatti, le parlerà della sua reunion, con Taylor. Brooke, disperata, deciderà però di non arrendersi. Nel frattempo, Hope continuerà a sentirsi in colpa, ritenendosi la causa principale della rottura tra Brooke e Ridge, dal momento che ha fatto di tutto, per cercare di recuperare il suo rapporto, con il papà biologico, ovvero Deacon, a dispetto degli avvertimenti dello stilista. E ci chiediamo, tra Ridge e Brooke, che più volte nella storia di Beautiful, hanno posto fine alla loro love story, per poi ritrovarsi, è davvero finita? Gli autori, in realtà, pare abbiano in mente ben altro. Sembra, infatti, che, a breve, verrà alla luce l'intrigo, ideato da Sheila Carter per favorire il bacio, tra la Logan e Sharp. Come precisato in un nostro passato video, la donna ha scambiato un drink analcolico, ordinato da Brooke a il giardino, con uno champagne ad alta gradazione. Da sobria, come più volte si è sottolineato, Brooke non avrebbe mai baciato, Lex. Come andrà a finire, questa storyline? A Taylor toccherà subire, l'ennesima umiliazione. Vedremo. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Ecco il nuovo alleato, di Sheila. Ulteriori precisazioni, in merito a questa storyline, aggiungono particolari interessantissimi. I nuovi spoiler, infatti, suggeriscono che la Carter, riuscirà a guadagnarsi un nuovo alleato. E la persona in questione, avrà il volto di Thomas Forrester. Il giovane, come stanno già vedendo i telespettatori americani, della CBS, non è affatto cambiato e rinsavito. Tutt'altro, a breve, mostrerà nuovamente il lato psicopatico della sua personalità, aiutando la Carter a mettere totalmente fuori di giochi, la rivale Brooke Logan, a tutto vantaggio della relazione tra Ridge e Taylor. Quest'ultima, è, infatti, la suocera di Finn, suo figlio. La Carter vuole che la psichiatra, entri in pianta stabile nella vita dello stilista, per rendere felice Steffi, sua nuora. Per Sheila, dunque, è importante che tutto ciò avvenga, in modo da assicurarsi un posto, nella grande famiglia allargata, dei Forrester. Ulteriori anteprime, indicano che Sheila, deciderà di agire subito. E così, un giorno, si recherà a casa di Steffi, per parlare con Taylor. Kimberly Brown, l'attrice che veste i panni della Carter, ha spiegato che il suo personaggio, sta facendo importanti passi in avanti, con la psichiatra che, da parte sua, riconosce e vede gli sforzi che la donna sta attuando, per migliorarsi. Al contrario di tutti, è la sola disposta a parlare con lei, e ad ascoltarla, la Carter, poi, si imbatterà in Thomas, dapprima deciso a tenerla lontana, da fine Ace, secondo la volontà di Steffi, per poi ritrattare tutto. Il giovane, infatti, apprezzerà sempre di più la presenza della donna, nella sua vita. Un giorno, però, Sheila, durante un dialogo con Thomas, arriverà a tradirsi quando dirà che dovrebbe ringraziarla, per aver diviso suo padre da Brooke. Sheila, non sopporterà di essere accusata, di essere una persona orribile. E lo pregherà di ringraziarla, per aver contribuito a favorire la reunion, tra i suoi genitori. Il lapsus, non passerà inosservato. E, pian piano, Thomas riassemblerà i pezzi del puzzle, scoprendo il suo coinvolgimento, nel piano volto a far ricadere Brooke nell'alcol, proprio in presenza di un'altra sua grande tentazione, l'affascinante Deacon. Thomas, dunque, si ritroverà con uno scottante segreto tra le mani, e non saprà davvero come agire. Dopo attente riflessioni, deciderà di mantenere nascoste le azioni, di Sheila. Ma occhio, a Liam e Hop, che potrebbero intercettare tutto. La giovane, infatti, sarà sempre più addolorata per la madre, e per nulla disposta a vederla soffrire per amore, altri rumors, però, indicano che Thomas potrebbe confessare tutto, in modo da avvicinarsi nuovamente, alla donna di cui è ossessionato, ovvero Hop. La verità, infatti, potrebbe aiutare quest'ultima, a far ritornare insieme Brooke e Ridge e, di conseguenza, a portare Hop a lodare. Thomas, appuntamento alle prossime news, per aggiornamenti più succosi, che mai. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie. 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 Grazie.